Le scelte da fare a mio parere non sono molte, ovvero o subire passivamente le scelte altrui o in qualche modo inserirsi in questo processo per far valere quelle che sono le nostre posizioni, i nostri diritti, ma dico nostri non intesi anche solo come comunità locali, anche a livello europeo, perché è ovvio che Triester rappresenterà gioco forza l'ingresso di questo colosso su tutto il mercato europeo. Allora dobbiamo avere la capacità di dialogare con un'entità del genere e far presente quelle che sono le nostre richieste, le nostre esigenze, perché una via a senso unico non è tollerabile, non è tollerabile per questo territorio prima di tutto, ma non è tollerabile sul lungo periodo neanche per l'Europa, perché quello che noi dobbiamo fare a livello europeo è tornare a essere comunità e comportarci come un unico organismo. Non possiamo permettere, e questo è l'altro aspetto di questo dibattito interno all'Unione Europea, che a fronte di vantaggi per qualche Stato membro poi di nuovo si entra in quella dinamica che c'è qualcuno che poi ne pagherà le conseguenze. Allora, patti chiari, amicizia è lunga, benissimo cercare di mettere le basi soliti per avere delle opportunità anche sul fronte orientale, ma queste opportunità devono essere equimamente distribuite anche all'interno dell'Unione Europea. Quindi siamo assolutamente contrari ad aprire delle vie d'ingresso per la Cina che poi vadano a svantaggiare l'Italia in particolare. Allora, io credo che la questione del memorandum sia un primo passo, ma quello che ci aspetta da fare è un memorandum a livello europeo, cioè dobbiamo mettere dei paletti a livello europeo, perché se, ripeto, continuiamo ad agire in modo singolo, sul lungo periodo qualcuno ne pagherà le conseguenze.